Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi un nuovo video. Vi ricordo che se avete piacere potete seguirmi su Instagram e sono attiva anche su Facebook, vi lascio il link nell'info box. Detto questo, diamoci dentro col video. Nel panorama oscuro dei crimini violenti emergono individui che incarnano il lato più malvagio o folle dell'umanità, lasciando dietro di sé una scia di terrore e tragedia. Bryce nasce nel 1992 e cresce a Louisville, una città del Kentucky, con sua madre, sua sorella minore e diversi fratelli. Online non sono disponibili molte notizie sull'infanzia di Bryce, ma emerge con certezza che lui, da bambino, ha subito diversi traumi e abusi, i quali, come Bryce stesso dichiara, hanno generato un grosso impatto sul resto della sua vita. Il contesto familiare in cui Bryce è inserito risulta piuttosto caotico. Lui viene cresciuto dalla sua mamma biologica, Shana, ma successivamente lei e la matrigna di Bryce si scontrano in una battaglia legale piuttosto dura per ottenere la custodia del ragazzino. A vincere è sua madre Shana, ma tra le due famiglie contendenti la tensione resta alta e Bryce si ritrova al centro di questa spiacevole situazione. Bryce inoltre ha un cui estremamente basso, ha l'ADHD, disturbo da deficit di attenzione e iperattività, e un disturbo bipolare. Si sostiene che all'età di 15 anni Bryce avesse la capacità cognitiva di un bambino in età prescolare. Fatica a elaborare e a ricordare anche le informazioni più basilari, quindi ben presto rimane indietro rispetto ai suoi compagni di classe. Bryce manifesta molta rabbia, infatti a scuola rimane sempre coinvolto nelle risse. Tra l'altro viene descritto come un tipo incredibilmente pigro, odia fare i compiti e anche svolgere qualche piccola faccenda domestica. La matrigna di Bryce ha notato che il ragazzino fa molta fatica a stare al passo dei coetanei e vuole chiedere aiuto per lui, tuttavia Shona, sua madre biologica, si oppone, quindi Bryce non riceverà alcun supporto. Passiamo ora agli ultimi critici anni dell'adolescenza di Bryce. lui ha appena lasciato la scuola e la sua unica ambizione nella vita è unirsi a una gang. Non ha altre aspirazioni o sogni perché pensa che l'adesione a una banda lo farebbe sentire accettato, vuole far parte di qualcosa. Ma c'è un problema. Nessuna gang lo vuole al proprio interno, anzi tutti i membri lo evitano a dirla tutta. Eppure Bryce sente di dover dimostrare loro il proprio valore, deve sembrare un tipo duro ma anche maturo. Se mostra di essere disposto a fare qualsiasi cosa, di certo troverà una gang pronta ad accoglierlo. Questo pensa Bryce. Così prende l'incauta decisione di partecipare a una rapina a mano armata convinto di poter impressionare qualche malvivente. In realtà non solo non riesce nell'intento, ma va pure incontro a delle conseguenze devastanti. È il 24 aprile del 2009, Bryce ha 18 anni e, insieme ad altri 10 suoi coetanei, decide di derubare un gruppo di adolescenti, minacciandoli con delle armi. Intorno alle 21, Bryce e la sua gang si riuniscono nel club di basket di Jeffersonville. A un certo punto, quattro ragazzini, sia maschi che femmine, si incamminano verso l'uscita e si siedono su una panchina, in attesa che uno dei loro genitori arrivi per prelevarli e riaccompagnarli a casa. Allora Bryce e la sua gang circondano la panchina e minacciano i quattro adolescenti con una pistola semiautomatica. Il ragazzo che ha in mano la pistola però la passa a Bryce, il quale sente il bisogno costante di mettersi alla prova, quindi non si tira indietro. Afferra l'arma e la punta contro la testa di uno degli adolescenti ricattati. Ordina loro di consegnargli tutti i loro averi. I ragazzini sono in preda al terrore, visto che uno di loro si è ritrovato con una pistola rivolta verso la testa. Agitati, si svuotano immediatamente le tasche e consegnano tutto quello che hanno a Bryce. Alla fine di questa squale di estorsione a mano armata, Bryce e la sua banda riescono a raccogliere soltanto 45 dollari e due cellulari. Dopodiché i rapinatori fuggono immediatamente, mentre gli adolescenti denunceranno l'accaduto alla polizia. Pochi giorni dopo, Bryce viene rintracciato e identificato come il membro della gang che ha adoperato la pistola. Viene così arrestato e accusato di rapina a mano armata. Lui ammette la propria colpevolezza e riceve una condanna a 6 anni di prigione, ad appena 18 anni. Da questo momento in poi Bryce vivrà la sua vita entrando e uscendo dal carcere piuttosto spesso. Per questa condanna però viene rilasciato molto prima del tempo previsto. Ha poco più di 20 anni ed è già un uomo libero con la condizionale, quindi è rimasto dietro le sbarre per circa un paio d'anni. Tuttavia non impiega molto tempo a violare la libertà vigilata. Come appena detto Bryce si ritroverà spesso dietro le sbarre e per diversi reati. Viene accusato di intimidazione, una seconda volta per furto, poi per violenza domestica e per detenzione e vendita di sostanze. Quindi dopo essere stato rispedito in prigione per aver violato la libertà vigilata e dopo l'ennesimo rilascio Bryce commette ulteriori violazioni e finisce nuovamente in carcere. Il ragazzo viene anche accusato di un reato intimo ai danni di una minorenne. A quanto pare ha rapito una ragazzina di nemmeno 18 anni e pur non essendo noti i dettagli nel suo crimine deve trattarsi di qualcosa di grave visto che Bryce viene schedato nel registro dei molestatori. Onestamente mi chiedo perché continua a essere rilasciato dato che sembra un soggetto abbastanza pericoloso. Arriviamo poi al 2013. Bryce ha 23 anni e viene rilasciato dalla prigione per l'ultima volta, almeno per ora. Così torna a vivere a Louisville nel Kentucky, abita in un condominio con sua madre e sua sorella. Siccome Bryce ha trascorso gli ultimi cinque anni in carcere si può affermare che tutta la sua vita da adulto si è svolta lì dentro. Dunque si potrebbe pensare che ora Bryce voglia stare lontano dalla galera che provi a rigare dritto, ma non succede. Infatti poco dopo essere tornato a Louisville, Bryce è di nuovo nei guai con la legge, stavolta perché ha picchiato sua madre Shana. L'ha colpita a mani nude e anche con una sedia di legno. La donna infatti è in pessime condizioni. Anche in questo caso non sono noti i dettagli, quindi non sappiamo quali ferite lei abbia riportato, ma è chiaro che il figlio l'ha colpita duramente. Tuttavia le accuse contro di lui vengono ritirate, quindi Bryce alla fine non torna in prigione. Ma questa purtroppo non è l'unica volta in cui lui aggredisce sua madre. Nel settembre del 2014 Shana sta sistemando la spesa a casa e Bryce per qualche misterioso motivo perde la testa, afferra sua madre per il collo, la trascina per i capelli, la prende ripetutamente a pugni in faccia e infine la scaraventa a terra. Mi chiedo come diavolo si faccia colpire così la propria madre? Tra l'altro Bryce si è fermato soltanto perché è intervenuta sua sorella che ha chiamato la polizia spaventata dal pestaggio. Ma anche questa volta Bryce non viene rispedito in prigione ma messo in regime di libertà vigilata e lui allora non si ferma, anzi non molto tempo dopo picchia pesantemente la sua fidanzata. Lei rimane anche incinta e sceglie di tenere il bambino, un'idea che considero alzardata con un compagno come Bryce. Infatti anche dopo la nascita del suo primo figlio Bryce continua a essere sempre nervoso e violento. Nel luglio del 2015 aggredisce la sua ragazza e la prende ripetutamente a pugni in faccia, tra l'altro mentre lei sta tenendo in braccio il loro bimbo di quattro mesi. Anche in questo caso però Bryce non viene incarcerato ma gli viene concessa la libertà vigilata. Onestamente è così frustrante leggere di tali risvolti. Bryce era già in libertà vigilata per aver aggredito sua madre. Ciò nonostante ha picchiato la sua fidanzata quindi ha certamente commesso una violazione. Allora che senso ha limitarsi a riconfermare la libertà condizionale? In ogni caso questo è il background criminale di Bryce Rhodes ed è ancora molto giovane come detto ha appena 23 anni. Ma c'è un altro aspetto significativo della vita di Bryce di cui non vi ho ancora parlato ovvero che è un aspirante rapper anche se alcuni giornali locali lo definiscono addirittura come un cantante famoso della zona. Ma questa sua notorietà mi dispiace non mi risulta. Comunque su youtube sono pubblicati video e musiche del ragazzo e a me non sembra che abbia talento. Insomma il rap di qualità è altro non quello di Bryce. Bryce quindi inizia a pubblicare un sacco di video con canzoni rap inedite su youtube nel periodo in cui è stato rilasciato dalla prigione per l'ultima volta. Cioè quello in cui ha aggredito sua madre e la sua ragazza. È convinto che diventerà un rapper famoso ma a mio parere gli piace illudersi. I suoi video sono fortemente imbarazzanti per quanto mi riguarda. Ho provato un certo disagio per lui guardandoli. Ebbene sappiate che il disagio non finisce qui perché il suo nome da rapper è Rambo e nelle sue canzoni fa riferimento al fatto che gli piace la vita nelle gang sebbene non appartenga a nessuna banda. Menziona spesso anche le armi da fuoco, le sostanze e i crimini intimi. Vi ho inserito in questa parte di video dei pezzi dei video delle sue canzoni ma non ho potuto fare di più a causa del materiale in questione perché Bryce impugna molto spesso delle armi. Quindi se proprio volete deliziare le vostre orecchie con la sua incredibile musica vi tocca andare sul suo canale youtube. Ma tra l'altro c'è una cosa che galvanizza particolarmente Bryce. Infatti la replica in ogni video cioè togliersi la maglietta. Al di là di questa parentesi musicale Bryce non ha ancora rinunciato al suo più grande obiettivo quello di entrare in una gang ma siccome nessuno intende reclutarlo lui infine prende la decisione di creare la propria banda. Bryce però non fa presa sui suoi coetanei che non sono interessati ad associarsi a lui quindi si prefigge di convincere soltanto gli adolescenti vulnerabili. Del resto lui desidera esercitare il controllo su persone facilmente influenzabili e impressionabili dunque manipolabili. Bryce pensa che siccome è stato in prigione ed è un rapper locale gli adolescenti lo ammireranno e aspireranno a far parte della sua banda. Lui ora vuole essere un leader vuole che gli altri vedano che lui stia vivendo nel lusso. Nei suoi video infatti Bryce mostra mazzette di soldi, belle macchine, gioielli, vestiti costosi ed è circondato da ragazzi attraenti. Ma nella realtà lui non può permettersi questo stile di vita è solo bravo a fingere. Allo scopo di reclutare gli adolescenti dai 13 ai 16 anni Bryce si aggira nei campi di basket locali. Racconta alle sue giovani prede che è un rapper famoso e che se si fossero aggregate a lui avrebbero potuto mettere le mani su un pezzettino della sua torta. In sintesi anche loro avrebbero ottenuto popolarità, denaro e rispetto. Bryce quindi fa leva sulla sua carriera da cantante per darsi credibilità promettendo ai ragazzini che li farà apparire nei suoi video musicali. È così che riesce a convincere tutti questi giovani a seguirlo abbagliandoli con la prospettiva di una vita migliore. Cerca dunque di perseverare questa facciata che lo fa apparire ricco, putente e ammirato da tutti. Regala ai ragazzini che hanno aderito alla banda dei vestiti nuovi, li porta fuori a mangiare, dà loro dei soldi. Ma come vi ho detto Bryce non conduce davvero una vita lussuosa, infatti continua a vivere con sua madre. Tuttavia gli adolescenti più ingenui non se ne rendono conto, anzi guardano Bryce e pensano oh mio dio ha così tanti soldi. Ovviamente Bryce si sforza di elargire tutti questi regali ai nuovi membri della sua banda non per gentilezza ma perché vuole che siano in debito con lui. Dato che lui ha donato loro dei vestiti e li ha portati fuori a mangiare pagando tutto quello che volevano, ora questi ragazzini gli devono qualcosa. Come forse ricorderete Bryce è incredibilmente perigro, non ha mai mosso un dito nemmeno per i compiti più elementari, quindi gli fa comodo poter incaricare i nuovi membri della sua gang affinché svolgano le faccende domestiche per conto suo. I ragazzini fanno il bucato, la spesa, puliscono gli ambienti in cui si trattiene Bryce e in più lui li costringe a intraprendere delle attività criminali come vendere sostanze. Ecco da dove arrivano tutti i soldi. Questi adolescenti si stanno incamminando su una strada tortuosa e stanno prendendo esempio dalla persona sbagliata. Tra loro ci sono Morris Gordon di 16 anni e Larry Ordway che ne ha 14. Sono due fratellastri nati entrambi a Louisville e la loro madre Elizabeth li ha messi al mondo quando era molto giovane. Morris e Larry hanno quindi due padri diversi e nessuno dei due uomini è rimasto nella loro vita, dunque Elizabeth li ha cresciuti da sola. Al momento i fratelli frequentano la stessa classe della scuola media. Siccome Morris è stato bocciato due volte si è ritrovato in aula con Larry. Mentre Morris ha malamuzi che ed è un giocatore di basket piuttosto capace, Larry va molto bene a scuola e se la cava anche lui nel basket. I due fratelli sono inseparabili, ma Morris si riduce di un periodo complicato della sua vita. Un paio di anni prima all'età di 14 anni è stato costretto a frequentare un campo estivo gestito dal dipartimento di polizia locale, pensato per i giovani ritenuti a rischio. Purtroppo lì Morris è stato trattato in malo modo, è diventato vittima di bullismo e ha subito diversi abusi fisici, mentali ed emotivi, esercitati proprio da parte degli agenti di polizia che gestivano il campo estivo. Tutti i giovani partecipanti sono stati maltrattati e bullizzati, non solo Morris. Molti di loro venivano svegliati nel cuore della notte e portati all'aperto, al freddo, dove erano costretti a eseguire centinaia di flessioni immersi nell'oscurità. Gli ufficiali insultavano e minacciavano i ragazzi e a volte li privavano perfino del cibo e dell'acqua, tanto che loro cercavano di dissetarsi bevendo l'acqua piovana. Un'esperienza comprensibilmente traumatica per Morris e i suoi compagni di campo. Ormai, come detto, Morris ha 16 anni, mentre suo fratello minore Larry ne ha 14. È a questo punto che hanno la sciagura di incontrare Bryce. Prima che lo conoscessero, Morris e Larry venivano descritti come dei bravi ragazzi che non avrebbero fatto del male a una mosca. Nessuno dei due aveva in mente di unirsi a una banda, ma Bryce riesce a corromperli. Se vi state chiedendo come sono entrati in contatto, sappiate che la spiegazione è piuttosto inaspettata. Sfortunatamente, Bryce inizia a uscire con la loro mamma, Elizabeth, e lei glieli presenta. Bryce pensa che loro rispecchino esattamente il tipo di seguaci di cui lui ha bisogno nella sua banda. Così, mentre frequenta Elizabeth, esercita la sua influenza anche sui suoi figli, facendo in modo che escano sempre solo con lui. Bryce attira Morris e Larry proprio come ha già fatto con gli altri adolescenti della sua banda. Li porta fuori a mangiare, offrendo loro ogni pasto. Compra loro vestiti nuovi, li incanta con la promessa di una vita lussuosa e dinamica. Bryce invita Morris e Larry a numerose feste dove li incita a sperimentare l'alcol, le sostanze e anche dei crimini violenti purtroppo. Sta spingendo i due fratelli in un vortice da cui è complicato riemergere e la loro madre, Elizabeth, sembra non preoccuparsene. Morris e Larry trasportano le armi di Bryce per conto suo e sono presenti nei suoi video di musica rap dove appaiono poco lucidi e maneggiano pistole. In una delle sue canzoni Bryce ripete quasi all'infinito prendi i soldi e ammazzali e questa frase è molto significativa per gli sviluppi del caso. Anzi, col senno di poi la definirei agghiacciante. Questa relazione tra Bryce e Morris e Larry arriva avanti per alcuni mesi. Così l'aspirante rapper convince i due ragazzi a sbrigare tutto il suo lavoro sporco in senso stretto e lato, incluse le faccende di casa. Sono infatti obbligati a servire e riverire Bryce a fornirgli tutto ciò di cui ha bisogno, poi sono pure coinvolti nelle sue attività criminali come la vendita di sostanze, le rapine e i furti con scasso. Bryce è così offuscato dalla brama di capeggiare una gang che non gli importa di mettere in pericolo dei ragazzini. Morris e Larry, in pratica, ahimè, diventano il suo braccio destro. Vengono sempre visti in giro con Bryce sia a piedi che in macchina. Come vi ho detto Bryce ha reclutato anche altri adolescenti nella sua gang e io vi parlerò dei casi più significativi. Partiamo dal quindicenne Anuan Carter, amico sia di Larry che di Morris. Infatti ha conosciuto Bryce tramite due fratelli. Poi ci sono i diciassettenne Jackory Taylor e i diciannovenne Tieran Coleman. Tutti e tre prima di incontrare Bryce venivano descritti come ragazzi amichevoli e gentili. Quindi Bryce conta cinque ideali membri nella sua gang e questo lo fa sentire molto importante e potente. Finalmente è il leader di una banda. Purtroppo, come presumibile, l'essere coinvolti da Bryce distruggerà la vita di questi ragazzi. È il maggio del 2016 e Bryce ormai ha 25 anni. Dopo la soddisfazione iniziale per la creazione della sua piccola gang, Bryce ancora si rammarica di non far parte di una vera e propria banda criminale. Scopre però che una gang della zona sta cercando qualcuno che sbrighi una commissione particolare, ovviamente in cambio di denaro. Bryce pensa che finalmente il suo sogno potrà concretizzarsi se svolgerà bene il lavoro richiesto. Riuscirà a impressionare i membri della gang e loro lo accetteranno nel gruppo. La commissione che intendono affidare è come una prova di iniziazione e Bryce si propone di eseguirla chiedendo di cosa si distratti nello specifico. I membri della banda gli spiegano che hanno bisogno di un sicario e purtroppo Bryce non si tira indietro. Vuole cogliere al loro questa opportunità, vuole disperatamente far parte di una gang al punto da essere disposto a uccidere qualcuno. I criminali allora gli forniscono i dettagli sulla persona che lui dovrà assassinare, gli rivelano dove trovarla e che aspetto ha. L'aspirante rapper accetta l'incarico e già si immagina inserito all'interno della gang. Dopodiché Bryce abbozza dei piani per portare a termine l'omicidio ma non ha intenzione di occuparsene da solo. Decide infatti di coinvolgere Maurice, Larry e gli altri in questo orribile progetto ma tenendoli all'oscuro di tutta la verità del delitto da compiere. Il 4 maggio 2016 Bryce è in macchina con la sua piccola banda di adolescenti. Il sedicenne Maurice sta guidando. Poi ci sono il quattordicenne Larry, il quindicenne Anwan e il diciassettenne Jackory. Si stanno dirigendo verso la quarantunesima strada poi Bryce guarda fuori dal finestrino e individua un uomo. Lo riconosce subito, è lui la persona che deve uccidere. L'uomo intravisto da Bryce si chiama Christopher Jones, ha 40 anni e due figli. Christopher viene davvero descritto come una persona meravigliosa, chiama la sua famiglia come un padre straordinario. Sta camminando per strada senza temere nulla perché per lui quello è un giorno qualsiasi. Ma poi Bryce urla al guidatore Maurice di accostare e il ragazzino obbedisce come lui e gli altri seguaci di Bryce fanno sempre. A questo punto l'aspirante assassino salta fuori dalla macchina e corre verso Christopher che, prima ancora di capire cosa stia succedendo, viene colpito al petto. Bryce gli ha sparato a sangue freddo. Il proiettile lo trapassa e l'uomo crolla sul marciapiede. Bryce intanto scappa verso l'auto, sale a bordo e ordina a Maurice di allontanarsi. Lui e Larry adesso sono in preda al panico perché, come detto, non sapevano che Bryce avrebbe ucciso qualcuno. I due fratelli cercano di convincerlo a non lasciare la vittima lì inerme a morire dissanguata, piuttosto devono chiamare un'ambulanza. Ma Bryce gli ordina di fare silenzio. Se non tengono la bocca chiusa sull'accaduto verranno puniti duramente. Così Bryce e la sua squadra di adolescenti è sempre più distante dalla scena del crimine. L'aspirante rapper è entusiasta, convinto che finalmente potrà avere accesso a una vera gang. Ma Bryce ha commesso un enorme sbaglio perché non ha ammazzato la persona che la banda aveva intenzione di eliminare. Christopher Jones era un uomo innocente che non aveva mai fatto nulla di male, non era mai stato coinvolto in attività criminali e non conosceva nessuno che facesse parte di una gang. Il poveretto è riverso per terra sul marciapiede e un passante lo nota e chiama l'ambulanza. Christopher ancora vivo viene portato in ospedale d'urgenza ma dato che la sua ferita è grave e che i soccorsi non sono stati chiamati subito non riesce a sopravvivere. Christopher come detto aveva una famiglia che amava e di cui si prendeva cura, aveva due figli che adorava e ha perso la vita solo perché Bryce che voleva farsi apprezzare da dei criminali lo ha scambiato per la vittima. Bryce ancora non sa di aver ucciso la persona sbagliata ed è elettrizzato al pensiero di aver portato a termine il colpo con successo. Vuole addirittura festeggiare e premiare la sua piccola banda di delinquentucci portandoli a pranzo fuori. Ovviamente non si risparmia dal minacciarli perché se loro avessero raccontato qualcosa a qualcuno lui li avrebbe uccisi personalmente. Poi Bryce si reca dalla gang per cui ha commesso l'omicidio e scopre così che ha ammazzato un uomo per un altro. Agli occhi della banda, inutile che ve lo dica, Bryce appare soltanto come uno stupido. Infatti né riceve i soldi per il delitto né gli viene permesso di entrare nella gang. La polizia intanto dà il via a un'indagine per l'omicidio di Christopher vittima di una sparatoria ma non riesce a collegare Bryce al suo delitto visto che Christopher non aveva alcun legame né con Bryce né con delle gang. Inoltre non ci sono testimoni di quanto avvenuto. Quindi per ora l'aspirante rapper è al sicuro ma Morris e Larry sono ancora sconvolti perché non intendevano diventare due assassini. Questo evento per i fratelli risuona come un campanello d'allarme. Bryce intende trascinarli in un mondo di cui loro non vogliono far parte ma temono il leader soprattutto ora che lo hanno visto uccidere uno sconosciuto a sangue freddo. Bryce intuisce che i due fratelli possono diventare un ostacolo per lui. Magari andranno dalla polizia a raccontare tutto quindi continua a minacciarli. Se parlano lui li ucciderà. Morris e Larry si tengono tutto dentro ma non dimenticano affatto quello che è successo. Nelle due settimane successive Morris e Larry iniziano a evitare Bryce. Non vogliono più stargli vicino e ogni volta che si trovano in sua presenza si sentono a disagio e sono sfuggenti. Ora vedono Bryce con occhi diversi. I due fratelli diventano paranoici all'idea di essere catturati per il loro ruolo nell'omicidio. In particolare Morris che era l'autista rischierebbe di essere accusato di un reato grave, di finire dietro le sbarri per molto tempo pur non potendo prevedere i piani di Bryce. Giorno dopo giorno sia Morris che Larry si lasciano inghiottire dal panico. Nel frattempo però anche Bryce è in paranoia perché teme sia solo questione di tempo. Morris e Larry potrebbero confessare tutto alla polizia e lui non deve permettere che questo accada. Quindi intende fare qualcosa a riguardo prendendo in mano la situazione. È il 21 maggio 2016 e sono passati 18 giorni dall'omicidio di Christopher. Morris e Larry si sforzano di proseguire la loro vita come sempre. Inoltre la loro famiglia sta organizzando una festa perché i due fratelli stanno per diplomarsi alla scuola media. In quello che dovrebbe essere un momento felice Bryce decide di agire. La sera del 21 maggio attira Morris e Larry nell'appartamento che condivide con sua madre e sua sorella e finge di stare organizzando un party. Ci sono sempre molte persone che vanno e vengono nell'abitazione di Bryce ma questa sera in particolare sua madre e sua sorella sono fuori quindi Bryce ha l'appartamento tutto per sé. Ha invitato a casa anche gli altri tre adolescenti che fanno parte della gang. Il 15enne Anuan Carter, il 17enne Jackor Ray Taylor e il 19enne Tieren Coleman. Inizialmente Morris e Larry non sono sospettosi perché il gruppo frequenta sempre l'abitazione di Bryce. Lui organizza spesso delle feste quindi non ravvisano niente di insolito. Ecco perché i due fratelli non intuiscono di essere finiti in una trappola. Gli invitati di Bryce si rilassano ma all'improvviso lui si rivolge ai due fratelli e comincia a sbraitare. Sta delirando urla contro di loro accusandoli di avergli rubato dei soldi. Bryce grida più volte in faccia a Morris e Larry pretendendo che gli restituiscano il denaro sottratto ma i due fratelli sono alquanto confusi perché non hanno mai rubato nulla a Bryce e glielo ripetono. Non stanno mentendo è Bryce che ha inventato un pretesto per litigare con Morris e Larry. Poi Bryce affronta la questione cruciale rinfaccia ai due fratelli di aver fatto la spia sull'omicidio di Christopher. Si dice convinto che Morris e Larry lo avessero raccontato a qualcuno o che addirittura fossero andati dalla polizia. Non assolutamente provi a sostegno di questa affermazione eppure è convinto che abbiano votato il sacco. Dunque Morris e Larry si mettono sulla difensiva dicono che niente di quello che sta dicendo Bryce rappresenta il vero. Loro non hanno fatto la spia e a questo punto iniziano anche a infuriarsi. A quanto pare Morris afferra un coltello e lo agita di fronte a Bryce anche se la cosa mi rende alquanto scettica visto che Morris e Larry hanno davvero paura del loro leader. Riflettendo in maniera logica dubito che un adolescente abbia il coraggio di sventolare un'arma davanti a qualcuno da cui è spaventato. In ogni caso Bryce riesce a sottrargliela e dà un colpo in faccia a Morris col manico del coltello. Dopodiché incarica Giacori e Tieren di trascinare nel bagno e due fratelli e chiuderli lì dentro. Mentre Morris e Larry sono segregati in bagno Bryce raggruppa gli altri adolescenti affinché mettano ai voti il destino dei fratelli. Devono vivere o morire? Purtroppo e direi inspiegabilmente la maggior parte dei ragazzi si esprime a favore sull'omicidio. Soltanto Anwan avrebbe votato con no ma non ci sono prove a sostegno della veridicità della sua affermazione. In ogni caso l'esito di questa macabra assemblea è la decisione di assassinare Morris e Larry anche se i due fratelli non hanno alcuna colpa. Allora Bryce ordina ai suoi seguaci di prendere prima Morris e trascinarlo fuori dal bagno. Gli lega le mani dietro la schiena usando una cintura, gli infila in bocca un paio di calzini e gli copre la testa con un grosso cappello che gli oscura anche la vista per disorientarlo. Poi lo attacca, lo prende a pugni ripetutamente fino a quando il ragazzino cade a terra. Nel frattempo Larry è ancora chiuso nel bagno ma può sentire suo fratello chiurla per il dolore implorando Bryce di smetterla. Infatti anche se Morris ha dei calzini nella bocca, le sue grida soffocate, i suoi tentativi di ribadire al leader che non ha affatto la spia giungono alle orecchie di Larry. Larry quindi è avvilito, sta perdendo la testa, piange e urla a sua volta mentre è ancora in trappola perché non vuole che facciano del male a suo fratello. Ma Bryce ormai ha deciso che Morris e Larry sono un ostacolo da eliminare. Così quando Tieren gli passa il coltello, lui lo afferra e pugnala ripetutamente Morris al petto. Il ragazzino urla straziato, suo fratello Larry dal bagno supplica a Bryce di fermarsi. Ma lui passa il coltello a Danwan e gli dice che, visto che sono tutti membri di una gang, devono uccidere Morris insieme, ciascuno contribuendo all'omicidio. Dunque ordina a Danwan di pugnalare Morris e il ragazzino acconsente. Poi il coltello viene consegnato al 17enne Jackory, il quale colpisce anche lui Morris. L'unica persona che non pugnala il ragazzino è Tieren. Morris dopo il massacro viene abbandonato lì sul pavimento, sta sanguinando profusamente e potrebbe aver già perso la vita, ma non lo si sa con certezza. Adesso Bryce trascina Larry fuori dal bagno che vede suo fratello a terra esanime. Larry non fa che continuare a urlare e piangere. Deve essere stato profondamente traumatico per lui vedere il suo adorato fratello immerso in una pozza di sangue. Bryce, seguendo lo stesso perfido copione, lega anche Larry, gli infila un paio di calzini in bocca e un berretto in testa che gli copre anche il viso e inizia a pugnalarlo. Poi passa il coltello ad Anwan che lo colpisce a sua volta. Infine Anwan consegna il coltello a Jackory che pugnala Larry per ultimo. Ora entrambi i ragazzini sono distesi sul pavimento e stanno sanguinando copiosamente. È così, brutalmente, che i due fratelli, Morris e Larry, perdono la vita. La fine a cui sono stati condannati è così straziante. Erano tanto giovani. Avevano una vita davanti a loro ed erano ragazzi talentuosi nelle attività che li appassionavano. Dopo il duplice omicidio Bryce crede di poterla pure fare franca perché pensa di essere invincibile. È già riuscito a passarla liscia con l'omicidio di Christopher, quindi è convinto che eviterà la prigione anche questa volta. Bryce però non riflette sul fatto che Christopher era uno sconosciuto per lui, quindi risultava complicato per la polizia risalire a un collegamento tra i due. Ma nel caso di Morris e Larry la situazione cambia. Tutti sanno che i due fratelli andavano sempre, dico sempre, in giro con Bryce e sanno anche che l'aspirante rapper usciva con la loro madre Elizabeth. Non è chiaro quando sia esattamente terminata la loro storia. Forse prima di scoprire questa atroce verità sull'assassinio dei suoi figli, Elizabeth stava ancora insieme a Bryce. Nelle prime ore di domenica 22 maggio 2016, Bryce e gli altri tre adolescenti sistemano i corpi di Morris e Larry dentro delle casse di legno e le caricano nel bagagliaio dell'auto di Bryce. Quest'ultimo porta i cadaveri in un'area erbosa nei pressi di una casa abbandonata su River Park Drive a un paio di isolati di distanza e dà fuoco alle casse di legno. Bryce è convinto di essersi sbarazzato dei cadaveri in modo molto intelligente e d'altronde si è spostato di notte, nessuno l'ha visto e si accorgerà dell'incegno, crede. Ma anche questa volta non ha calcolato bene le sue mosse, infatti dopo aver appiccato l'incendio Bryce non è rimasto lì a controllare le fiamme che si sono propagate nel giardino della casa, così tutti gli abitanti della zona hanno notato che qualcosa stava andando a fuoco. Nel frattempo però l'aspirante rapper e i suoi tre complici sono tornati nell'appartamento per ripulire la scena del crimine. In casa regna il caos, la gang usa la candeggina per rimuovere il sangue dal tappeto, cerca di eliminare ogni prova dei delitti. Quando Bryce è soddisfatto del lavoro svolto porta fuori tre ragazzini e offre loro la cena, è così che le ricompensa per averlo aiutato a uccidere i due fratelli. Infine accompagna Anwan, Jacory e Thieren a casa loro. La mattina seguente la polizia arriva alla casa abbandonata visto che molte persone hanno segnalato l'incendio. Gli agenti trovano così i resti di due corpi senza vita ma non individuano i documenti di identità delle giovani vittime, quindi per prima cosa devono riuscire a identificarli. Realizzano due sketch ovvero delle rappresentazioni grafiche delle due vittime da rilasciare al pubblico sperando che qualcuno si faccia avanti e riveli la loro identità. Un'insegnante della loro scuola media le riconosce, sono Maurice e Larry. Ora che gli investigatori conoscono l'identità dei due cadaveri devono assolvere al devastante compito di informare la famiglia dei ragazzi e scoprire chi li ha uccise in un modo così brutale. La polizia interroga diverse persone che abitano nel quartiere e che conoscono Maurice e Larry scoprendo presto che l'ultima volta in cui qualcuno ha visto i due fratelli loro stavano salendo nella macchina di Bryce Rhodes il giorno precedente. La polizia quindi deve interrogare Bryce ma non lo trova da nessuna parte. Tuttavia i detective riescono a rintracciare un compagno di Bryce, Maurice e Larry, cioè il quindicenne Anwan Carter. Gli agenti portano Anwan in centrale per chiedergli cosa sappia dei suoi due amici scomparsi i quali frequentavano la sua stessa scuola. Anwan terrorizzato non riesce a tenere la bocca chiusa, confessa tutto alla polizia, non può più nascondere nel suo animo un segreto così logorante. Lui è l'unico a dimostrare un minimo di rimorso per quello che ha fatto. Il ragazzino racconta con dovizia di particolari la notte dell'omicidio di Maurice e Larry. Spiega alla polizia che Bryce aveva legato prima Maurice e poi Larry per picchiarli e infine pugnalarli. Anwan ammette di aver partecipato agli omicidi, spiega che era stato costretto da Bryce ad accoltellare i suoi amici. Inoltre il ragazzo rivela alla polizia che Bryce Rhodes è il responsabile dell'omicidio del quarantenne Christopher Jones. La polizia reagisce con stupore, quella su Christopher era un'indagine ancora aperta, ma ora Bryce Rhodes è ricercato per triplice omicidio. Un paio di giorni dopo gli agenti rintracciano finalmente Bryce e lo portano in centrale per interrogarlo. Lui si finge innocente come se non sapesse di cosa sta parlando la polizia. Tuttavia nel frattempo altri investigatori stanno perquisendo la sua abitazione e trovano tracce di sangue ovunque. Questo significa che i giovani complici di Bryce non avevano pulito poi così bene la scena del crimine. Dunque Bryce viene comunque arrestato e accusato di triplice omicidio. Oltre a Anwan, anche gli altri due adolescenti che hanno partecipato al delitto, Jacori e Thieren, vengono arrestati e accusati di omicidio. Come detto siamo nel mese di maggio del 2016 e da ora in poi tutto quello che Bryce farà in prigione o nelle aule del tribunale renderà questo caso così famigerato. Bryce provoca caos ovunque vada e lo farà per i sette anni e mezzo successivi. Il suo processo ha ufficialmente inizio nel dicembre 2023. Già, perché dopo così tanto tempo? Prima di tutto Bryce ha deciso di dichiararsi non colpevole. In seguito gli è stato assegnato un avvocato difensore il quale però si è reso presto conto che era presente un conflitto di interessi. perché lui era amico dello zio delle vittime, morisse Larry, da molto tempo. Quindi a causa di questo legame l'avvocato ha dovuto tirarsi indietro. Ma Bryce secondo voi ha preso bene questi risvolti? Assolutamente no. Quando l'avvocato si è scusato con la corte Bryce gli ha sputato addosso, si è alzato in piedi e gli ha urlato contro accusandolo di essere un codardo. Lo ha minacciato dicendogli ci vediamo quando esco da qui. Insomma Bryce proprio non riusciva ad afferrare che era nel suo interesse trovare un avvocato che non conoscesse le vittime. Ma questo è solo l'inizio. Nell'agosto del 2016 Bryce ha litigato con un detenuto, lo ha scaraventato a terra e gli ha procurato un taglio sulla fronte per poi avvertirlo che l'avrebbe ucciso come aveva fatto anche con altri. Nel settembre del 2016 Bryce ha scatenato una rissa con il detenuto di turno e gli ha sputato addosso. Qualche settimana dopo Bryce si è rifiutato di tornare nella sua cella dopo l'ora d'aria quindi ha iniziato a lanciare dei prodotti per la pulizia contro chiunque. Ha afferrato una scopa, l'ha spezzata metà e ha cominciato ad agitare il manico davanti alle guardie carcerarie dicendo pure a loro che li avrebbe ammazzati. Cinque giorni dopo Bryce ha urinato in una bottiglia poi l'ha usata per bagnare una guardia carceraria. Mi chiedo cosa frulli nella testa di Bryce? Cioè nel senso è assolutamente disgustoso a mio parere. Comunque a causa di tutti questi atti violenti e buffonate in tribunale Bryce è stato obbligato a indossare una maschera visto che prediligeva sputtare addosso alla gente. L'imputato doveva anche essere trattenuto dato che era sempre instabile quindi gli hanno immobilizzato i polsi e le caviglie sulla sedia da lui occupata. Ogni volta che entrava in udienza Bryce veniva trasportato su una sedia a rotelle a cui era legato e come detto aveva in faccia una maschera antisputo. Non è di certo una scena a cui si assiste spesso neanche in America. Infatti il video in cui Bryce viene escortato in aula, trattenuto sulla sedia a rotelle e con quella maschera sul volto è diventata virale su TikTok. Bryce era furioso per questa imposizione al punto che aveva minacciato la giudice dicendole che avrebbe scoperto dove abitava per poi uccidere lei e la sua famiglia. Nel gennaio del 2017, pochi mesi dopo questo pandemodio in tribunale, Bryce è stato accusato di un altro crimine perché aveva cercato di evadere di prigione. Gli agenti perquisendo la sua cella avevano scoperto che Bryce aveva scavato una buca sotto il letto utilizzando un oggetto metallico proibito. Inoltre aveva mandato dei messaggi minacciosi agli adolescenti coinvolti nell'omicidio dei due fratelli e anche in questo caso è stato accusato di un reato legato alle minacce. Durante tutto il corso del 2017 si sono verificati diversi problemi in aula. Infine Bryce ha deciso di rappresentare se stesso. Gli imputati che assumono questa scelta specialmente in un processo per omicidio solitamente vogliono solo ottenere più attenzione, pensano di essere più intelligenti di tutti e di poter fare quello che vogliono. Dunque Bryce ha continuato a minacciare il giudice, lo ha insultato, lo ha accusato di andare a letto con il pubblico ministero incaricato del caso. Ha anche tacciato il magistrato di razzismo affermando che facesse parte del KKK. Poi in un'occasione mentre Elizabeth, la mamma di Maurice e Larry, era seduta in aula, Bryce l'ha provocata di continuo voltandosi verso di lei per lanciarle degli sguardi provocanti e baci. Non soltanto le aveva barbaramente ucciso i figli ma le ha mancato totalmente di rispetto proprio durante il processo per il duplice omicidio. Ovviamente Elizabeth si è inalberata al punto che ha tentato di aggredire Bryce in tribunale. Negli anni successivi Bryce ha cercato di rimandare il processo in tutti i modi e si è anche rifiutato di lasciare la sua cella. È stato sottoposto a moltiplici valutazioni psichiatriche per capire se fosse idoneo a sostenere un processo e i risultati hanno espresso che lo era. Dunque ha cercato di trascinare il processo il più a lungo possibile nel tempo soltanto per ottenere maggiore attenzione. Nel frattempo gli altri tre adolescenti hanno accettato di patteggiare. Il quindicenne Anuan Carter si è dichiarato colpevole di aver facilitato l'omicidio e di aver falsificato delle prove ed è stato condannato a dieci anni di carcere. È stato rilasciato sulla parola molto presto nel 2019 per buona condotta a patto che pagasse le lapidi delle due vittime Maurice e Larry. Il diciassettenne Jack Corey si è dichiarato colpevole delle stesse accuse di Anuan e anche lui è stato condannato a dieci anni di prigione per i medesimi reati. Così come il diciannovenne Tieren. Ma loro due, Jack Corey e Tieren, sono tutt'ora in prigione. Torniamo infine al dicembre del 2023, sette anni e mezzo dopo i tre omicidi, quando Bryce Rhodes dovrebbe finalmente affrontare senza intoppi il processo. Sorprendentemente questa volta evita le continue interruzioni e i colpi di testa. Forse si è messo l'anima in pace? Bryce Rhodes viene giudicato colpevole di tutte le accuse e condannato all'ergastolo senza possibilità di libertà condizionale. Questo in parte mi rincuora perché credo che una persona pericolosa come Bryce non debba essere mai più libera di camminare per strada. Il caso di oggi è indubbiamente frustrante, anche perché Bryce Rhodes avrebbe già dovuto essere in prigione al tempo in cui ha ammazzato un uomo a caso e poco dopo due ragazzine. Aveva commesso diversi crimini prima dei tre delitti, avrebbe dovuto essere incarcerato per le aggressioni ai danni di sua madre e della sua ragazza all'epoca. Bryce non doveva essere rilasciato, non doveva avere modo di commettere questi omicidi. Soltanto ora possiamo dire che si trova nell'unico posto in cui merita di essere, la galera. Questo ci porta alla fine di questo video e credo che questo caso oltre che frustrante sia davvero assurdo. È assurdo come il desiderio di Bryce di entrare in una gang l'abbia portato a questo, a tutto questo, questo abominio onestamente. Io sono davvero senza parole, non conoscevo questo caso, ma a questo punto sono curiosa. Voi lo conoscevate? Cosa ne pensate di questo caso? Fatemi sapere quali sono i vostri pensieri, le vostre opinioni, le vostre sensazioni qui sotto nei commenti. Io non vedo l'ora di leggervi tutti. Nel frattempo vi mando un bacione e ci vediamo prestissimo al prossimo video. Mi raccomando fate i bravi, continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene, ma soprattutto prendetevi cura di voi e fate ciò che vi rende felici. Basta che non facciate nulla di criminale. Ciao a tutti! Ciao a tutti!